in tempi recenti i temi etici e di difesa della vita sono stati affrontati da certi settori della chiesa cattolica in modo quanto mai dissimile rispetto a certi insegnamenti tradizionali uno dei più grandi difensori dell'insegnamento tradizionale della chiesa fu il cardinale carlo cafarra arcivescovo di bologna nato nel 1938 e morto nel 2017 l'insegnamento di questo prelato volto a segnalare la deriva etica a cui assistiamo fu molto apprezzato da papa san giovanni paolo secondo che ne fece uno dei suoi più ascoltati collaboratori e consiglieri carlo cafarra in un testo del 1994 parlando dell'amore dice l'amore il vero amore non mette mai limiti di tempo non mette mai condizioni quanto questo contrasta con le idee che oggi si coltivano sull'amore e a cui mi sono già riferito in precedenza ci sono due frasi che ho voluto estrapolare e che riguardano la chiesa una dice la ragione d'essere della chiesa è una sola guidare l'uomo alla comunione eterna con dio questa è tratta da un discorso del 1985 al pontificio consiglio per la famiglia l'altra frase invece dice l'incontro del cristo con l'uomo questo è il cuore della chiesa tutto il resto è secondario e questa è tratta da una frase per la sua messa d'ingresso nel 1995 a me sembrano frasi molto importanti in un tempo in cui sembra che la chiesa si preoccupi di cose umane troppo umane ma non sia così focalizzata sul cuore della sua missione che è appunto di fare in modo che l'uomo possa incontrare dio per lodarlo e per esserne salvato insomma tante cose sono certamente importanti ma se si perdono di vista le priorità si sta andando in una direzione che ci porta sempre più lontano dal centro si devono certamente come ci viene insegnato curare le periferie ma questo si può fare quando si ha ben chiaro dove è il centro il problema etico era al cuore della ricerca di questo studioso egli diceva già nel 1976 a nostro parere la problematica etica che inquieta la coscienza dell'uomo contemporaneo è ormai discesa fino alla radice dalla fonte primigenia di ogni questione morale questo è un testo sull'osservatore romano aveva infatti ben chiaro come la questione etica sarebbe stata al cuore della crisi dell'uomo moderno i suoi testi dovrebbero essere studiati sempre per aver chiaro come la chiesa malgrado questo momento attuale di difficoltà ha sempre offerto risposte chiare e ragionate ai problemi che affliggono l'uomo e le donne in ogni tempo